Vigolo San Giorgio di Sopra e questo è un vicolo caratteristico saliamo un po' su giardini davanti alle case lì poi c'è uno stato non so che stato è un po' la riprendo e qua ci sono le abitazioni come non so che non so che andiamo verso di qua vediamo qua si vede anche la chiesa magica qui siamo questa casa della famiglia Forgione esattamente di Gerardo Forgione qui nei secoli scorsi c'era un contento so che c'era anche un ospedale qui San Giorgio forse era questo vediamo di qua che c'è passiamo tutto questo arco di San Giorgio qui abbiamo un albero un grosso albero qui c'era una cantina di Quaglia anni fa venivo anche io qui a portare l'ua bello questo è un angolo bello di San Giorgio gli prendiamo un altro da dietro gli prendiamo un altro da dietro chiudiamo questo è un palazzo questo è un palazzo bello con questi archi archetti qui guardiamo la strada giù bello bello non 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 non